Oggi vi raccontiamo una storia triste della città di Bari, sono sempre loro, guardate un po', vettura 51 Bo dell'Amtab, la domanda è come può essere uscita questa mattina la vettura 51 Bo forse 45 facendo il giro dal deposito della zona industriale di Bari? Questo non è un autobus, questo è un mezzo d'epoca, è un vecchio autobus di Formula 1, guardate un po', non ci sono molte parole per descrivere quello che è questo autobus che si tiene insieme per opera dello Spirito Santo e di tanti volitivi meccanici ed autisti. Questo è olio, guardate un po', olio che perde, ma di più non c'è una cosa sana, guarnizioni scassate, vibrazioni, questo si stacca, è incredibile, ruggine dappertutto. Guardate, sì, 51 45. Com'è possibile che un autobus del genere possa circolare? Com'è possibile che possa superare i collaudi? Guardate un po', guardate un po', guardate un po', non ci sono parole. E poi, per esempio, per riuscire a non avere il sole in faccia, usano il sistema più vecchio della terra, usano il cartone, il cosiddetto cartone, la tendina, guardate un po'. La tendina, il cartone, il cartone del pollo, una pezzetta per tenere la porta. Cioè, signori, c'è da mantenersi forte nell'autobus dell'Amta. Arriveranno 54 nuovi autobus, ormai la filastrocca che ci viene raccontata. Sì, ma quando? E questi quando saranno portati dallo sfascia carrozze? Non possono più circolare.